Protagonista indiscussa dello stand Alfa Romeo a Ginevra è la 4C Spider, che coniuga il piacere della guida open air con il carattere sportivo ed essenziale della pluripremiata 4C Coupé. Disegnata dal centro stile Alfa Romeo, questa affascinante due posti secchi è caratterizzata da un seducente vestito che avvolge il telaio monoscocca in fibra di carbonio. Ispirato alle monoposto di Formula 1 è pesante soltanto 107 kg. Al centro un motore turbo compresso completamente in alluminio da 1750 cm3 a iniezione diretta, con intercooler e doppio variatore di fase continuo che le consente prestazioni da supercar, 4,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km orari. Gli interni sono concepiti per il massimo coinvolgimento dell'esperienza di guida, con volante in pelle sportivo, pedaliere in alluminio e cambio al volante. L'Alfa Romeo 4C Spider è prodotta nello stabilimento Maserati di Modena, dove le parole d'ordine sono tecnologia evoluta e artigianato di altissimo profilo. Novità anche per Giulietta con il nuovo allestimento top di gamma, Giulietta Collezione. All'esterno calo tenere degli specchi retrovisori, cerchi in lega da 17 o 18 pollici con trattamento brunito e a richiesta raffinato tetto nero. All'interno l'elegante ambiente scuro, reso ancora più suggestivo dai nuovi sedili rivestiti in pelle bicolore con cucitura contrasto. Sull'allestimento Collezione debutta il nuovo motore turbodiesel multijet di seconda generazione 1.6 JTDM 120 CV Euro 6. Perfetta combinazione tra prestazioni, bassi consumi e rispetto per l'ambiente. Debutto anche per la versione Mito Racer, dedicata a chi è attento alle nuove tendenze. La nuova serie speciale propone l'elegante trattamento cromo satinato per le maniglie delle porte e le cornici dei gruppi ottici anteriori e posteriori, oltre al paraurti posteriore sportivo, lo spoiler e il terminale di scarico cromato. All'interno l'ambiente sportivo viene impreziosito dai nuovi sedili in tessuto grigio e decopelle marrone dall'effetto vintage. Ampia la gamma di motori, tutti performanti e rispettosi dell'ambiente, come il pluripremiato benzina 900 Turbo Twin Air da 105 CV. Per chi desidera prestazioni da vera sportiva, è disponibile il 1.4 Multi Air Turbo Benzina da 140 CV con cambio automatico Alfa TCT. E non mancano i turbodiesel 1.3 JTDM da 85 CV e 1.6 JTDM da 120 CV, entrambi appartenenti alla seconda generazione dei motori multijet e il 1.4 GPL Turbo 120 CV.